Nonostante la situazione sanitaria, il Festival delle Conoscenze, organizzato da Fondazione Acos per la Cultura, con il patrocione dei comuni di Novi, Tortone e Ovada, non si ferma e viene effettuato in modalità streaming sulle piattaforme social della Fondazione. Presidente, a lei il compito di presentare i due eventi? Sì, buongiorno a tutti. Secondo appuntamento del Fuori Festival delle Conoscenze. Siamo in streaming, purtroppo causa Covid, presentiamo in presenza col professor Barberi sull'Università Orientale del Piemonte e oggi alle 10 e alle 18 con la professoressa Sonia Lucarelli dell'Università di Bologna, da Bologna in streaming. Buon ascolto a tutti. Un evento di questo genere, quale ruolo potrà avere nel territorio? Ma un ruolo importantissimo. Io conoscevo il Festival delle Conoscenze, Novi è una città del sapere per la sua tradizione, per la sua storia, ma anche per le eccellenze che ha in campo scolastico. Quindi certamente il Festival delle Conoscenze avrà un ruolo determinante e anche di sviluppo del territorio lo aiuterà molto nella crescita, nella sua complessiva crescita. Il Festival è in tempo di pandemia e Acos sta facendo un grande sforzo per sostenere. Sì, indubbiamente gli sforzi sono rivolti soprattutto alla sicurezza, perché organizzare un incontro di questo livello con docenti assolutamente di tutto rispetto, in un momento come questo, quindi senza la presenza ovviamente fisica, a distanza, c'è un lavoro organizzativo importante. Di questo non smetterò mai di ringraziare obiettivamente chi, proprio, come dire, operativamente, ha fatto in modo e maniera che questo secondo appuntamento potesse essere svolto. Oggi in programma due eventi, uno alle dieci, con teorie politiche della contemporaneità a cura del professore dell'Università del Piemonte Orientale, Giorgio Barberis. Professore, quali saranno i temi che toccherete oggi? Oggi rifletteremo sulla politica a partire da un approccio di tipo storico, per arrivare fino all'attualità più stringente, e vedremo come la politica, per come l'abbiamo conosciuta, sia entrata in una fase di crisi profonda che necessita un ripensamento e una ridefinizione. Cercheremo di porre le premesse per questo compito che ci attende per il futuro. Alle 18, il secondo evento aperto a tutti i cittadini, Cala al sipario sull'ordine liberale, crisi di un sistema che ha cambiato il mondo, sarà tenuto da Sonia Lucarelli dell'Università di Bologna.